Filippi Venezia Giulia è il centro del mondo perché andate in giro per tutto il globo ma alla fine vi ritrovate sempre qua Elisabetta. Soddisfazioni e un occhio anche al livello tecnico di questa manifestazione. La gara è sempre bella, l'Alpe Adre è sempre un momento forte soprattutto per queste categorie giovanili dove vediamo in gara anche i nostri atleti che sono stati i campioni del mondo quest'anno. Quindi tutti possono confrontarsi a tutti i livelli, sì certo, prima o poi tutti passano per il Friuli Venezia Giulia. Abbiamo visto dei campioni del mondo anche qui sul tatami, che tipo di competizione è? Ci sono tanti atleti che hanno anche un nome, vero, nel ranking? Sì, ci sono tanti atleti che troviamo nella ranking nazionale, che troviamo già nella ranking internazionale Juniore Soccadetti perché questi ragazzi fanno già il circuito europeo e il circuito mondiale delle gare ufficiali. Non per questi evidentemente, però è anno olimpico questo, 2024, sarete impegnati anche là Elisabetta? Sì, queste per me saranno le mie quarte olimpiadi, è sempre un'emozione, l'olimpiade è una gara speciale, è una gara bellissima, è il completamento del sogno atletico di ogni agonista perché è chiaro, l'olimpiade è un'altra cosa, ma lo è per tutti, lo è per gli arbitri, lo è per noi staff, per tutti quelli che partecipano, sì, tutti da piccoli abbiamo sognato l'olimpiade. L'importante è che poi torni sempre in Friuli. Ah beh, certo, appena si può, appena gli impegni internazionali lo permettono, tornare a casa, il cuore è qui. Buon lavoro e in bocca al lupo per Parigi e grazie di tutto. Grazie mille.